Cari amici, oggi siamo chiusi all'interno di una escape room molto molto carina perché c'è scritto che è arcobaleno, penso che ogni stanza abbia un colore però si chiama così, l'ha fatta Nico de Pro, che è lui In realtà, sotto medite spoiler, le fa lui le mappe No, in realtà è un map maker che dovrebbe essere italiano, Nico, me lo confermi, vero? Non lo so, non lo so sicuro In realtà, non so quante mappe faccio ancora adesso Ma, non è morto, è ancora vivo No, no, nel senso che è ancora vivo, tranquillo Niente ragazzi, iniziamo subito con questo primo livello Dobbiamo cercare qualcosa che ci permette di accendere il portale Io prima l'ho trovato perché stavo guardando se la mappa funzionasse Però voglio vedere se ci è arrivato anche io Ecco, l'ha già trovato loco a posto Ho trovato Red Portal Me lo dai per favore Dai lì, non l'ho preso Non l'hai ancora preso Ok, questa dovrebbe essere quella facile Quindi vediamo un po' se funziona Che bello raga, well done Eccoci nella seconda stanza ragazzi Penso che dobbiamo... Cosa ci fa fare sta roba? Non toccare i cubi, mi sa Non dobbiamo toccare questo? No, questo qua Questi qua Questo non do toccarlo Quello lì non devi toccare Ok, qui dobbiamo fare una sorta di parkour Che ci permetta di andare dalla parte opposta, giusto? Quindi di qua Ma di qua c'è il gioco che senza parkour Eh sì, quindi c'è qualcosa di nostro Eh, c'è una sugar sugar C'è una sugar sugar Dove sta Dovano a prendere? Un totale useless item C'è ma veramente Non posso manco piazzarlo Qua ci sarà qualcos'altro di nascosto E provo a buttare l'item qua sopra? Vediamo? No, non si può Non fa assolutamente niente Allora, vedete che qua c'è le cose rotte? Non è che le cose rotte si possono rompere in qualche modo di più? Appunto O sennò c'è qualcosa di nascosto che ancora non l'abbiamo visto Non potrebbe anche essere Qua c'è qualcosa di nascosto che non l'abbiamo visto? Allora, c'è solo questa sugar qua Però ciò vuol dire che c'è qualcos'altro che effettivamente Non so, però non si può andare Forse sono stato io No, no, sono stato io, sono stato io Scusate No, sto cercando di capire se c'è qua... Ah, aspetta però Qua non c'è niente Eh, non c'è un tubo, non c'è Non c'è proprio un tubo Io ho un oggetto inutile Un altro Dai, sempre lo stesso Sono stato io, eh Ok Guarda se qua sotto c'è qualcosa O che c'è qualcosa nel muro che non abbiamo visto? Secondo me può essere Non è che è un ordine da premere sti cosi? C'è un ordine Come hai fatto? Eh, va a caso Questo è il primo Ah, l'hai cliccato Questo è il secondo Quello lì è il secondo Ah, ogni volta bisogna rifarlo Ah, ok, bisogna guardare Uno, due, tre Questo No, no, ho premuto il mio Aspetta Uno Poi c'è quello lì Sì E poi quello in fondo Aspetta, perché prima devo attivare questo Vai, attiva quello Quello lì di loco Così Abbiamo fatto Una volta Ora c'è questo Poi dovete prendere quello in fondo No, quello lì Se lo fa loco Vai, fallo loco Vado, vado, vado Vado, vado Vado lì Ok E ora tu E ora questo qua Perfetto Ora Uno, due, tre Ok, io faccio questo Uno Tu faccio Vai, Nico, adesso vede all'alto Due, Marci Vado, ok Vai tu E quattro Ok, adesso abbiamo Quello lì Ok, sono nello stesso ordine Questo qui E quello là Ok, facciamo quello di prima Io faccio l'ultimo Ok, vado Io vado qua E io vado in questo qua No, aspetta Ok, manca ancora uno tanto Ok, a posto Ora abbiamo quello Quello lì Questo Ah, di nuovo questo qua Ok Vado Uno Vai, loco Ok, facciamo questo Poi Nico va di lì Io faccio questo qua E Nico devi rifare Esatto, fatto Ancora uno Ok, l'ultimo è questo qua Ho capito, ha capito ragazzi Perfetto Uno Vai, loco Questo qui Io poi vado di qua Ok Nico devi rifare il tuo L'hai rifatto il tuo No, no Ok, poi questo qua Si gode Prima escape room Andata, raga Grandi, raga Grandi Hai zitto Ma sono tornati qua Quindi c'è una storia Ok, ora si riapre Un altro portale Ora qualcuno verrà licenziato Per questa quale Dice Va bene Un portale Triggerà Il portal Trigger Buttalo Bravo Bravo Loco ce l'ha fatta Ragazzi Ce l'abbiamo fatta Incredibile Ok Qui abbiamo qualcosa Ah, secondo me Dobbiamo I parrot Del colore giusto Però Che hai preso Ah, ok Praticamente Ma va bene Qualsiasi No, no Quelli del colore giusto No, perdiamo Perdiamo Raga Ah, no Non è vero Loco Stai dicendo Le cavolate Lo so Cioè Ti dal punto Se ben di quello Del tuo colore Ma cambia poco Se fai gli altri Cioè Non è che ti togli I punti Lì Arancione È molto facile In tre Allora Stai fermo Loco Faccio Da sola Raga Me ne faccio Da sola Loco Lì Arancione Quello lì È blu Verde Verde Di nuovo No, vabbè Ragazzi Aiutatemi Ci puoi Vai Far da solo Quello rosso Dove è che sono Vabbè Ce l'abbiamo fatta Questa era un po' Troppo facile Possiamo dirla Questa cosa Mi sembrava Un po' Troppo facile Ok Quindi Tom È sotto Licenziato Va bene Ma è così Semplice Tutta Allora Dobbiamo capire Come aprire Il portale giallo Adesso Ci ha detto Quindi Questo qua Ok Dice Può spaccare L'iron bar Andrà a vedere Cosa c'è dietro Anch'io voglio andare Non venire Pericoloso Pericoloso Si capisce nulla Ho trovato qualcosa Io mi sono perso Ho un portale giallo Ragazzi Gang Vamos Bello il giallo Oh mio dio Ok Questo lo fa loco Io sto qua In un angolino E osservo Allora possiamo Ovviamente Spostare questi Ma come li sposti Nigo Con il piccone Toccandoli Dobbiamo attivare Tutti i trigger Qua Esatto Però dobbiamo cercare Di farli Ok questo qui Sicuramente va qua E l'abbiamo fatto Questo qua Secondo me Questo non va qua No sì Quello lì per forza Va lì Qua serve un segnale Perché se no Questo qua Va per forza Quanti ce ne abbiamo Aspetta qua ce n'è un altro Questo qua da spostare Perché non si può spostare È perché rosso Deve essere verde Allora Ok ok Devevo mandare il segnale Da qualche parte Ah perché No Può spostarsi Sulla stone Sulla stone brick Eh sì ma dobbiamo Andare il segnale Se non può spostarsi questo Ok Provo a spostare Dimmi cosa cambia Merce un po' troppo Un po' troppo Con calma No aspetta aspetta Guarda Così Così E così Bravissimo Ok E abbiamo spostato quello Non va E aspetta però Così Adesso ho attivato qualcos'altro Qua serve il blocco Ora mi sa Ok l'hai spostato quello lì loco Bravo Aspetta così loco Ah no Un po' si è spostato Ci serve sto un blocco Che arrivi qua Questo lo possiamo spostare Adesso penso Va a metterlo qua Sì mettilo lì loco Mettilo qua No Il tuo No Il tuo Il mio lì Ok Vado Ok Ok Questo Eh ma questo che non si può più spostare adesso No abbiamo Restart se volete Allora facciamo restart vai Restartiamo un secondo Ho fatto in tre è un casino Ho fatto in tre è un casino Ho fatto in tre è un riguardo Ma Allora in questo caso Noi dobbiamo cercare di spostare queste Quindi questo qua Deve avere dell'energia elettrica Per andare in avanti Quindi dobbiamo fare in modo Che questa qui arrivi in qualche modo E prima l'avevamo fatto Questo qua per forza qui Loco Questo qui Questo di spostarlo su questo Così da energia a quello Ok Adesso abbiamo energia qua Eh ci serve l'energia qua Ci serve dell'energia qui Quindi come facciamo Ah vedi qua si sta Si è aperto questo qua Quindi mi cerca di aprire Aspetta Quella L'abbiamo già spostato Però ormai Capito Aspetta vediamo che è successo Aspetta un'altra cosa Che apre questo qua Diventa Ok Aspetta Questo non apre niente Questo nemmeno Questo però si Loco guarda qua Eh Questo non ha aperto niente Eh no Non mi sembra Facciamo così No Allora dobbiamo capire un attimino Sì Questi non fanno niente Inutili No Rivelli dovevi prima Questo è l'unico che fa qualcosa No perché Devo di capire un attimino Perché prima andava E ora qui non abbiamo Questo non dà più energia Questo bisogna riportare in avanti Come abbiamo fatto prima Allora Avrà messo un coso qua Vediamo uno qua Qualche parte Ok aspetta Facciamo così Esatto questo Di spostarlo in fondo Poi a destra Perfetto O questo possiamo spostarlo Tipo di qua Eh ma cambia poco bro No così Adovere Aspetta Eccolo Buono Ok Quindi ora questo qua Si può Bisogna cercare di dare energia All'aspetto Ok ho capito Aspetto ho capito Questo io perché non si sposta più Perché prima Avevamo spostato Allora guardate un attimo Dobbiamo portare energia Adesso A questo qua Questo qua si libera E lo metti qua Non cambia nulla Eh no non cambia nulla loco Perché questo qui Non va indietro Vedi Questo deve andare in avanti Quindi noi dobbiamo portare energia A questo qua Quindi questo qua Deve ricevere energia E questo qui riceve energia Solo portare in avanti Questo blocco Qui che noi abbiamo tolto Quindi deve tornare uno qua Oh mio dio Abbiamo fatto un macello Mi so Tranquillo tutto risolvibile Così Fatto E così Ok portalo giù lì Bravo Questo lo metti qua Ok E ora arriva energia qui Quindi serve uno di energia qua Tu metti questo qui No Non ci posso portarlo Non ci sto capendo niente Finita Ti ti loco Sono in giro Dacci una mano Io non sto capendo neanche Qual è l'obiettivo del livello A tutte queste x Nonix Da questo adesso Possiamo spostarlo A qualche parte Ma era sempre così Anche prima Non è cambiato nulla Perché dobbiamo metterlo lì Questo Io ti sto guardando Aspetta Serve energia Questo qua nero Attivi di me Ho capito tutto Questo va qui Ok Questo lo sposti A destra In questo modo E lo metti lì Ok Scegli di energia lì Questo lo sposti su Usi di energia Questi e sposti questo Esatto E fin qua Ce l'abbiamo fatta Ok L'abbiamo già sposti Con il livello dei pappagalli Questo Questo Sposti Bravo Ma prima c'era Ma prima c'era o no No non c'era Guarda loco Dobbiamo prendere Questo qui rosso Vedi questo qua rosso Così Aspetta Aspetta C'è Già qua Non l'ho capito Fai così Vai Porta quello là Bravo Questo va No basterebbe dare Delle energia qui A questo qua Riusciamo a portarne uno qua Sì Non può più Tornare indietro E dobbiamo portare tutti indietro bro Sì ma al momento Non so come Vado Tornare indietro Resettiamo No 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 sì che abbiamo già fatto troppo Purtroppo serve Dell'energia qua Aspetta se faccio così Bravo Va quasi bene loco Ne serve uno qua adesso Dopo lì Ok Quindi questo va lì Esatto bravo Vai a destra adesso Bravissimo E l'unica cosa che adesso serve L'energia qua Questo qua E arriva da Questo qua Eh sì Come facciamo Aspetta questo possiamo portarlo indietro Aspetta forse ce l'ho Io ho una soluzione se volete No 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 La creativa non è una delle soluzioni Fermo Resta così Bravissimo loco Amore è bloccato Perché l'hai spostato Marci E rispostolo No doveva stare lì doveva prima O doveva fare tutto a capo Ma in che senso Non l'ho fatto niente Non l'ho fatto niente Loco Ma è colpa tua Ma che colpa mia Ma vado sovendo tutto così bene Ma ti guardi lascio fare Guarda ti inquadro proprio da guarda Mi metti in ispettatore No ma l'unico ci ha fatta Guarda Buonissimo No ma che fai no Adesso è eccellente No Ho fatto bene Ho fatto bene No Grazie ragazzi Meno male che ti sono io no Gravo unico Io non volevo che andasse così Nico il video in realtà È tirato troppo Mi sento inutile in questo livello Non ho capito neanche cosa Bisognasse fare Mi ha punito Non chiusi Ma marci dove Invento se non ti tippa Sono veramente Dove sono Non mi ha tippato Raga Devi essere Un adventure Verde Ok Get send Cosa dobbiamo fare Non ho ascoltato Abbiamo sei catti Ok dobbiamo Non so Dobbiamo prendere tantissima send Nico se tutti noi Ho capito Per prendere la send Così ho preso send Metti a send Da qualche parte Non so dove Ok mettilo a caso Ah e ti punta Icun Ragazzi Esatto Non posso metà send Però Ok Get Auto Sento Ah Nasce un cactus Esatto E ora metti sul cactus Ragazzi Metti sul cactus Che vi ritrotto qua dentro Loco Eh no Nasce solo Guardalo Ma che si prende Can break send Red send Ah così Allora abbiamo due cactus O dobbiamo moltiplicarli Stavo 5 cactus Marci Ok vai E metti E non ne ho più Io Ragazzi Aspetta Deve nascere Ragazzi Ho capito Cocco Ho capito Ci servono altre Altre send Le hai messe tutte le altre send Oh non ci abbiamo Dove per comprarle Aspetta che cresca Ragazzi È un tycoon Su roblox Cioè che roblox E già che roblox Non penso che Loco giochi a roblox Comunque va bene Dai Ecco qua Vedi Io faccio Così E ne metto un'altra Abbiamo Buttala Buttala Ok io praticamente Ho queste Shears Che sono potentissimi A mille cactus Ma poi diventa più facile Perché abbiamo l'auto send E ripiazza piazza Subito Velocemente Siamo a 14 Raga 14 15 15 Prenditi l'auto send Vai E metti sta usando Bella sta usando È proprio Fantastica Zio per Ma vedi che sta farmando da sola È magica No vabbè incredibile Davvero Volete fare shopping Con 30 cactus Abbiamo less spoon time Less spoon time Adesso lo prendiamo Aspettiamo 30 cactus Sì Aspettiamo 30 Aspetta ma io no Che vedo come funziona Questo qua Ci danno solo le cose È a 6 Aspetta vediamo È vero raga O P Siamo a 28 Dai Altri due 29 20 Sto spoon time Il nico Per favore muoviti in loco Ok ora è molto più veloce Sembra Vediamo Perché non compriamo la sabbia rossa Che fa tutto lei E prendiamone tante di sabbia rossa E Quante ne prendiamo Eh ma arriviamo a 15 Tranquillo E sono due caracate Ma perché si ripiazza da sola Non capisco Ok Per un'altra Per un'altra Un'altra Vamos Cavolo comunque è stromboli Perché è mille tantissimo Cioè quanto ci vuole qua dentro In questo posto Adesso ci piega un po' Allora In realtà Io so Un concetto Veramente particolare Non so se voi lo sapete Che il tempo è relativo Ok Che sarebbe Per esempio È che insomma No no io non voglio No 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 Ragazzi con calma Voglio gestirmela bene Ok per dimetti Ti infila loco Uno No no Mi piace cosa infila Ma sento tipo È nico Che vuole comprare una send Una send Solo una E ci vogliono 40 minuti Per arrivare a 15 No adesso guarda Ma adesso guarda L'abbiamo presa vero Sì l'abbiamo già preso Però forse possiamo riprenderlo Può essere Io non ne ho idea Cioè non so se Costa di meno Cioè te lo Forse conviene riprenderlo Secondo me Dovevo riempire tutta la zona Di sabbia rossa Sapete Va guarda quanti ne fa Prendiamo a prendere Al corale Ah X You are too broke for death Cosa vuol dire Se non hai soldi Ah ok Ma adesso va più veloce o no Adesso si Si sbanca raga Ma guarda quanto da veloce Abbiamo già vinto È già fatta raga Abbiamo la piccola al massimo Basta 10 10 10 10 Levati Ma avevo rifinito Tutta la fila Eccoci raga Siamo a mille praticamente Basta Non ce ne ha bisogno Siamo già 5 c No 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 basta Basta Fatti 30 Fai 31 Non ho capito Loco questa stand La sta prendendo in creativa Secondo me No 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 La presa legge Ma siamo a mille Loco mattine stai fermo Siamo lecchi Ce l'ho fatta La stanza che vanno Mamma mia Cari siamo al blu Cosa c'è da fare Ora leggerà Nico tutto Alla restart Io ho mutato i volumi Ok qua cosa Ma perché si può cadere qua dentro Ragazzi giusto Non puoi cadere Ok E qui cosa dobbiamo fare Ah ci sarà sicuramente qualcosa da fare Ora Fino lì Fino lì l'ho capito Qui c'è il restart Io ho una mazza Anche io Ah è occhio alla talpa Bellissimo Ah bellissimo raga Che è ucciso Facciamo file Facciamo file esatto Ah gli è mi ha picchiato Dopo l'ultima fila Loco centrale No raga Siamo tutti sbagliati È vero Nico Sento quello sbagliato Ma io mi sono messo per primo qui Io per secondo E allora sei sbagliato tu Abbiamo vinto raga Ah il gole 20 ma siamo già 40 A 20 E allora basta Dai Ma è la cosa più bella Che abbiamo visto nella mia vita È stupendo Beccalo zombie Beccalo zombie Good job Siamo nell'ultima stanza Abbiamo questo caro Che si chiama Manem e Jess Cosa stai facendo Non mi fai dare Ok Allora machico Ah c'è un piccone Che rompe da l'ana rosa Ok Me lo dai a me 5 l'ana rosa E fanno un piccone Che rompe il diorite Quindi è tutto Vieni a scambiare col signore Signore Eccomi qua Ah signore Eccolo qua Poi ci servono 5 diorite wall Questi qua sono Di diorite wall E come li spacco Ah questo qua Col piccone Ma è così semplice Dove Dov'è l'inghippo dai Dov'è l'inghippo Voglio sapere dove l'inghippo Ora spunta 5 Prendiamo questi Inghippo Lo mettiamo qua Questa schiena Ma la gente Terra racconta 1 2 3 4 5 Dove è l'inghippo Aiuto Voglio l'inghippo Ceriamo su tutte queste cose qua Ok Questo qui è Player head Lì c'è una testa Ecco l'inghippo Eccoci qua Era un prank I knew it Aiuto Aiuto Ragazzi Sotto più semplice Il previso Ma in giorno Carne marcia Ma cosa possiamo fare adesso La carne marcia La tieni Non so se è giusto In realtà Raga per compi con il conscritto Howdy they get this Spacca quello Prova a spaccar quello Posso spaccarlo King E da mettiamo Non so Vediamo Vai bravo loco Spacca Sei fortissimo Spaccare loco Eccolo Qualcos'altro C'è un cactus Cactus Un cactus Cactus Si chiama Cactus Jones Ok cosa fa Definitivamente no Un'uscita Ma droppami sul portale Ok droppalo sul portale È green È green The magic The magic Cactus Dimension Allora cosa dobbiamo fare qua dentro adesso Sto codizio qua non vuole niente Ho scritto un indizio Leggo gli indizi Aspetta Clicca proprio gli indizi Ma qua c'è qua c'è una cesta Send O send gunpowder Non so quante Ok c'è solo una cesta qua dentro Ci sarà un'altra cesta segreta da qualche parte Con questo risolvi tutto Raga qua Prendi questo e clicca Ma qua c'è qualcosa C'è una cesta segreta Devi cliccare il libro segreto Ho capito raga ma ho capito Il curve Ok Wow Bello Ma qui sotto c'è una cesta Eh facciamo la tnt allora Scusami Eh C'è la stazione Era il contrario Porca miseria Perché non mi ricordo mai come si fa la tnt Basta che pensi che la campodera è sempre quella che è di più Tnt Canby play son cheese led stone brick Questo sarà Sbam Vai attiva Abbiamo vinto Siamo fuori Leva Hai rotto Facci scappare da sto posto Oh no Oh no Esplode Eh ciao Sono quei Sono io Mi stanno purgando gli zombie C'è scritto Eh no Eh no Oh Salve Era un prank Ma io sono dentro di voi Ok io vi sto picchiando Buongiorno Salve Ma ci hanno richiusi di nuovo Siamo Come fa C'è una storia Molto Intinsega Devi ascoltarlo il bro Sta succedendo cose malvagie Come facciamocire di qua adesso Allora Ho aperto la porta raga Come hai fatto Ah è una porta di regno Ah ok Ehm Abbiamo degli oggetti Abbiamo degli oggetti Destra Trofei Oh madonna C'è c'era una roba che non abbiamo preso Eh mi sa Non abbiamo preso neanche uno Facciamo proprio cagare Sì ce l'ho ragazzi Ce l'ho Uno Eccolo Questo si può mettere Inutile Oh inutile item ho preso Poi la sabbia Ragazzi ci vediamo in un prossimo video Spero vi sia piaciuto Ciao Ciao